Giovanni e Rocco, uno a Roma, l'altro a Napoli, due storie simili di povertà ed emarginazione. Due persone che vivevano per strada dopo aver perso tutto, morti di freddo e stenti nel gelo dei primi giorni del 2016. Due storie che aprono una riflessione sulla condizione di rischio povertà che accomuna un italiano su quattro. Secondo gli stati infatti sono oltre 4 milioni i nuovi poveri nel paese, di cui secondo la Caritas il 50% sono nostri connazionali. E parlando di poveri, contano i numeri quanto i diritti. Proprio per aiutare chi vive nella privazione è stata annunciata dal ministro Poletti la prima iniziativa tra le misure antipovertà varate la scorsa settimana dal governo. Subito un assegno di 320 euro al mese per un milione di persone in forte difficoltà economica. Un intervento coperto dalla legge di stabilità che potrà entrare in vigore già quest'anno, utilizzando i 600 milioni stanziati con la manovra finanziaria. Si comincerà dalle famiglie con figli minorenni che sopravvivono con meno di 3 mila euro all'anno. La platea di beneficiari sarà gradualmente allargata nel 2017, quando scatterà la riforma che coinvolgerà tutti gli italiani in condizione di povertà assoluta. Chi avranno però anche degli obblighi e dovranno in cambio accettare un'occupazione e mandare i figli a scuola. E mentre per le pensioni il ministro Poletti si è impegnato sulla flessibilità in uscita, cioè consentire alle persone di lasciare il lavoro prima prendendo di meno, sulla crescita a razzo dei cosiddetti voucheri buoni lavoro che la legge Fornero ha autorizzato in tutti i settori nutre sospetti di lavoro nero mascherato. Nel 2014 il loro numero è aumentato di 129 volte, a usufruirne 70 milioni di italiani, soprattutto le donne.